Chi vive la missione di Caritas non è un semplice operatore, ma appunto un testimone di Cristo. Una persona che cerca Cristo e si lascia cercare da Cristo. Una persona che ama con lo Spirito di Cristo, lo Spirito della gratuità, lo Spirito del dono. Tutte le nostre strategie e pianificazioni restano vuote se non partiamo in noi di questo amore. Non il nostro amore, ma il suo, o meglio ancora, il nostro purificato e rafforzato dal suo. Nella Basilica di San Pietro Papa Francesco ha inaugurato la ventesima Assemblea Generale di Caritas Internationalis, non una semplice organizzazione umanitaria, chiarito perché la sua radice sta nell'accoglienza, semplice e obbediente di Dio e del prossimo. La Caritas dunque è sempre in periferia e rivela la forza dell'amore cristiano e il desiderio della Chiesa di andare incontro a Gesù in ogni persona, soprattutto quando è povera e soffre. In un mondo dove c'è cibo per tutti, ma sembra che manchi la volontà di condividere, il Pontefice ha ricordato ai potenti della Terra che Dio li chiamerà a giudizio un giorno. Tra i pensieri di Papa Bergoglio, anche i cristiani, vittime di ingiustizie, sono stati cacciati dalle loro case e dalle loro chiese, a volte distrutte, ha detto, rinnovo l'appello a non dimenticare queste persone e queste intollerabili ingiustizie.